eccoci alla quindicesima edizione di fare conti con l'ambiente ravenna 2022 finalmente riusciamo a rincontrarci di persona come le scorse volte proverò a ragionare soprattutto di rifiuti e soprattutto in una logica di una di come migliorare la compliance di come migliorare azione di prevenzione rispetto alle inefficienze e soprattutto al malaffare. Illegalità dal mio punto di vista dalla mia osservazione è un adattamento quasi fisiologico a delle patologie di sistema cercherò di ragionare appunto di queste patologie delle falle dei modelli di governance delle deficienze delle criticità molto spesso anche delle inconsapevolezze che si muore in questo universo molto composito che è il mondo dei rifiuti quindi proverò a ragionare di criticità per provare a offrire delle proposte delle chiavi di lettura alternative proverò a farlo cercando in qualche modo di non annoiare l'uditorio e provando in qualche modo a dare il mio piccolo contributo senza avere delle verità ma semplicemente cercando di diseminare l'uditorio di ulteriori dubbi quindi proverò a fare la mia parte come al solito ci vediamo presto a Ravenna ciao ciao